buongiorno a tutti oggi siamo a balerma per mostrarvi questo quattro e mezzo locali siamo al quarto piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo immerse nell'area del soggiorno veramente ampia molto luminosa subito a sinistra troviamo un armadio muro già installato sulla parte destra troviamo la cucina una cucina ben attrezzata di frigorifero congelatore forno piano cottura a gas lavabo e lavastoviglie ritorniamo ora nell'area del soggiorno vedete che rimane veramente ampia grazie a tutte queste vetrate e sulla parte destra troviamo un balcone che vediamo poi in seguito frontalmente all'ingresso abbiamo questo corridoio che ci porta nella zona notte sulla sinistra un armadio a muro già installato mantenendo sempre la sinistra la prima stanza vedete che gli ambienti rimangono ampi e molto luminosi proseguiamo sempre a sinistra troviamo il primo bagno un bagno di servizio composto di specchiera lavabo e vicini proseguiamo la seconda stanza frontalmente alla seconda stanza il secondo bagno un bagno più ampio è composto di specchiera lavabo vide e vicini e una comoda vasca procediamo e concludiamo la visita nella zona notte nella terza stanza ritorniamo ora nell'area del soggiorno vedete che rimane uno spazio veramente ampio e molto luminoso sulla parte destra attraverso questa porta finestra possiamo accedere ad un balcone se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto